Come sta andando questa preparazione? Bene, bene, stiamo lavorando bene con tutto il gruppo, adesso iniziamo ad amalgamarci un po' di più e iniziamo a capire meglio tutti i schemi e gli insegnamenti del mister. Come ti stai trovando con i ragazzi? Io benissimo, perché è un gruppo tutto di bravi ragazzi, sono, penso, ognuno che ci può dare un qualcosa di importante al gruppo e infatti secondo me con questo gruppo possiamo fare qualcosa di importante. La prima partita sarà quella di Coppa Italia tra due settimane, vi sentite pronti? Sì, sì, noi siamo pronti sia per la Coppa che per il campionato, siamo concentrati e guardiamo dritto l'obiettivo e che sia Coppa o campionato per noi indifferente, siamo pronti.